ciao oggi sono molto felice perché con questo video voglio celebrare il mezzo milione di visualizzazioni sul mio canale youtube ricette testate per me un risultato davvero incredibile e voglio ringraziare tutti voi che guardate i miei video su youtube e seguite tutti i miei social c'è chi mi contatta per farmi i complimenti c'è chi mi chiede la ricetta e c'è anche addirittura qualche amico che si diverte a chiedermi il menù del giorno riguardandomi indietro vedo notevoli miglioramenti da quando facevo i video col cellulare stesa sul divano di casa adesso che riesco a metterci addirittura la faccia come dico sempre non sono una cuoca per diventarlo ci vuole sì tanta passione ma anche tanto studio non sono nemmeno una pasticcera sono soltanto una donna con una grande passione per la cucina ereditata dalla mamma dalle zie dalla famiglia in generale che si diverte a cucinare anche sperimentare ricette nuove dietro ricette testate c'è un gran lavoro di squadra prima di tutto c'è lui mio marito il primo che ha creduto in questo progetto anzi veramente all'inizio ci credeva solo lui mi riprende e mi cura il sito internet ricette testate punto it che vi invito a visitare poi c'è mio figlio francesco dieci anni anche lui spesso mi aiuta nelle riprese e poi la piccolina di casa a valentina quattro anni che è una buona forchetta assaggia tutto testa tutto adoro questo progetto anche per questo perché riesce a coinvolgere tutta la famiglia a tenerci uniti insomma 500.000 visualizzazioni mezzo milione per me un risultato davvero fantastico e allora grazie 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 continuate a seguirmi e passate parola ciao ricette testate